Nido anche perché il nido è un nido locale, devo dire anche questo valore, il nido normalmente è fatto con delle pagliuzze che prendi in quel posto lì e l'uccellino va a prendersi le cose, però sa farlo molto bene, ti protegge ma ti ospita, insomma è messo nel punto giusto, ed è un riferimento, non mi dico che potrebbe essere un nido. Smart working lo usiamo solo noi, work from remote, perché se dici smart work è un lavoro più da remote, però anche questa attivazione di un rapporto più di rete, questa è una cosa positiva, l'aumentare di questa rete, l'aumentare delle connessioni, io dicevo prima che è molto importante essere in contatto tra gli altri, quindi questa cosa ci ha fatto aumentare la rete, cioè il contatti, la capacità di metterci in relazione, perché attraverso un sistema informatico, un sistema digitale, però ovviamente ci ha tolto la parte. Ecco secondo me il futuro è quello di, penso, spero, non lo so se lo sapessi cosa è il futuro e sarei un mago, ma comunque dico. Quello che sarebbe bello è non perdere questa capacità di mettersi in rete con le persone, specialmente con le persone di qualità, e quindi lavorare in grandi gruppi, ascoltarsi di più, però non perdere neanche la capacità di nidificare, cioè avere questi nidi locali in cui noi prendiamo, e io credo che questi nidi stiano prendendo un po' valore, cioè le città stiano diventando un po' dei nidi di valore. Grazie a tutti.